Che significato hanno queste vite? Un significato altamente evolutivo, sia per chi le vive, sia per chi giunge a sapere che queste vite esistono. Sono vite molto dolorose, dipende da chi le vive. Infatti, se chi le vive le accetta come un fatto indispensabile per la sua evoluzione, riuscirà a vivere la sua vita meglio di una persona perfettamente integra.